Che mi ha fatto? Ha dato il conto subito che mi ha fatto! Stiamo lì a un bar con Putin l'altro giorno mi ha detto vuoi comprare la panta mia quattro per quattro che a metano risparmiò? Tanto io sono vecchio e ormai ne ho dovuto più Hai visto che uno si conosce? L'ha già parlato con la moglie e dico viamola! Come l'ha già comprata? Questo delinquente ha alzato il metano subito a due euro e cinquanta un litro! Questa carogna! Non c'è ragione? Vabbè! Boh! Anche l'altro giorno è arrivata la bolletta di radiatori a casa bianca mille rotti Ma che poi con quel sermone grosso? Ma che ci dobbiamo fare se muoviamo via e basta? I voti non ci sono più! A noi ci bastava anche un monologale bianco no? Lo delinquente lì! Ma questa banda va bene almeno? Si affoga in salita lì! Si affoga! Non capisci! Ah ma dando un incontro dove va per tutti? Eh! No! 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 No!